Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. In questa puntata ci occupiamo di recensire XO della XLN Audio, un drum tool. Qualcuno dirà ancora perché comunque il mercato di questo tipo di sistemi è affollato ormai da parecchio tempo. Possibile che ci possa essere ancora un modo di sviluppare dei sistemi di composizione ritmica inediti. XLN Audio ha innovato sin dai primi passi nel campo del drum composing e drum library. Infatti proprio Addictive Drums è da decenni uno dei migliori se non il migliore sistema di batterie campionate sul mercato, soprattutto per quanto riguarda le batterie acustiche. Lo abbiamo già ampiamente esplorato in un altro video sempre sul mio canale che vi invito a rivedere. Lo trovate poi nel link in descrizione. XO è un ulteriore passo in avanti per chi non soltanto necessita di un approccio rapidissimo alla selezione del sample giusto per il proprio mix, ma anche e soprattutto necessita di un sistema immediato di caricamento di loops in stile Stylus in cui però pescare samples dalla libreria di Addictive Drums o dai propri samples che ora possono essere inseriti nel mucchio e salvati in un preset. Alcuni principi dell'interfaccia di Addictive Drums sono stati riportati in maniera sintetica in basso nell'interfaccia come i filtri di inviluppo, l'accordatura, il pen e l'FXSense eccetera eccetera. Possiamo quindi immediatamente partire dall'esplorazione rapida dell'interfaccia partendo dal centro, proprio particolare e stranamente simile a quello proposto già da UV nel suo Sparkverb, sempre già recensito su questo canale. Ci appare quindi una nuvola colorata in cui cliccare a caso per arrivare ad un suono che stiamo cercando, ad esempio la cassa o il rullante che troviamo in questa zona. È un sistema molto utile quando cerchiamo ad esempio la cassa simile alla nostra track di riferimento che mentre la lasciamo andare possiamo cliccare a caso individuandola più rapidamente. A differenza di Addictive Drums possiede un suo piccolo sequencer sotto in basso. Cliccando su Host Sync parte immediatamente agganciato alla nostra sequenza di riferimento. È un sistema molto simile che si ritrova già sulle classiche AO8 style a 16 steps in grado di darci un groove funzionale alla composizione del beat. Possiamo partire ad esempio dai presets e ascoltare già quello che esce. Il same pattern simile al sample cambia il groove in realtà soltanto nei samples, quindi dandoci anche un riferimento dello stesso groove con samples diversi e quindi ovviamente cambia anche il fill del groove. ... ... ... ... ... Tornando invece in questa sezione space ogni volta che andremo a cliccare su un samples la funzione similarità ci permetterà di individuare quelli più simili anche riguardanti non soltanto il kick ma anche lo snare e quindi cambiamo il secondo kick ad esempio quindi ampliare anche la palette dei suoni dello stesso groove attraverso la funzione add folder che troviamo qui in alto possiamo aggiungere un folder contenente i nostri samples personali per poi poterli anche ricercare attraverso la funzione search search and filters ci permette di scegliere subito di selezionare ad esempio la cassa quindi tutte le casse che sono disposte all'interno di questa interfaccia come anche soltanto gli snares o i claps quindi individuare rapidamente anche i samples di cui abbiamo bisogno vediamo infatti che i kick sono rossi, gli snares blu, i claps rosa, i close hi-hat sono gialli, gli open hi-hat sono verdi i symbols sono rosa qui sotto fucsia, i tom li troviamo in viola le percussions sono giallo mentre gli effects sono in azzurro quindi è anche semplice individuarli all'interno di tutto il sistema dell'interfaccia che possiamo anche zoomare e quindi raggiungere più velocemente all'interno della stessa interfaccia nella sezione edit page che abbiamo visto poco fa possiamo ascoltare il groove che abbiamo scelto in suddivisione quindi anche nel sequencer pattern che abbiamo qui in alto e modificarlo eventualmente questo è molto simile al sistema che utilizza uvi sempre in questa interfaccia troviamo la possibilità di lavorare direttamente sui samples quindi modificarli anche nell'attacco e nelle curve dei fade per poter interagire ancora con le curve di inviluppo, il pen e tutti gli altri parametri relativi al sample singolo attraverso invece l'opzione bit combiner possiamo scegliere di combinare i diversi bit delle varie parti quindi dei pezzi della batteria ad esempio il kick lo vogliamo in questo modo secondo kick, rullante, pure e quindi o trovarci anche oppure utilizzare il pulsante random per creare dei loop casuali o attraverso la manina selezionare tutto il loop quindi ascoltare le varie combinazioni già preimpostate per trovare quella più gradevole lo stesso accade per il sample combiner stesso discorso, possiamo combinare i samples attraverso i random questo fa riferimento alla similarity che abbiamo visto prima nell'interfaccia principale però suddivisa già per tutti i samples ovviamente fin quando non clicchiamo su ok questa piccola baffatura verde in alto non verrà salvato il preset una volta composto il tutto possiamo esportare sia le singole tracce sia le tracce midi dal pulsante export selezioniamo un path su cui poter esportare ad esempio nel desktop faremo una cartella XO questo ci viene chiesto la prima volta e quindi possiamo in questo momento renderizzare il file della cassa ad esempio del kick e una volta creati i piccoli stems possiamo trascinarli direttamente nella do ad esempio vogliamo trascinare soltanto il kick oppure tutto il bit già composto lo stesso accade per il midi quindi possiamo trasformare tutto il bit midi e riutilizzarlo all'interno dell'editor per fare delle altre combinazioni se volessimo invece esportare tutti gli stems direttamente prendiamo questa sezione e automaticamente vengono creati tutti gli stems dei singoli lo stesso accade per il process o per il raw la qualità di questo nuovo drum tool è sbalorditiva una compattezza ed una pulizia molto rara rispetto ad altri sistemi di questo tipo analizzati finora l'interfaccia è a prova di producer si riesce a creare velocemente il beat anche soltanto andando a caso fino a rintracciare quello che ci piace è come aver riunito la qualità audio di addictive drums con la semplicità di utilizzo di stylus e di uv ho tardato un po' a fare questa recensione a causa dei lavori che stavo chiudendo in studio e che non coinvolgevano l'uso di drum tools ma finalmente posso dire di aver scoperto un sistema efficace e di qualità eccelsa nel marasma delle librerie per beat creation viene venduto in due versioni una light da 2000 samples a 119 euro ed una completa da 8000 samples a 179 euro che inoltre esporta nei vari formati FLAC, MP3, HOG e WMA rispetto alla light che esporta soltanto il WAV e la IF nella versione completa possiamo inoltre usufruire degli 8 bus aggiuntivi di multi out oltre altre features di esportazione il mio consiglio è di scaricare la demo, provarlo sui vostri arrangiamenti e decidere di acquistarlo o meno spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata verrete a contatto con le mie tracce affronteremo i vostri mix insieme e le finalizzeremo nella fase di mastering continuate a seguirmi su facebook, youtube e musicoff non dimenticate di iscrivervi cliccando sul mio canale in basso a destra ho anche aperto un account Patreon per poter raccogliere piccoli fondi a sostegno di questi video gratuiti e che vi da accesso ad altri contenuti esclusivi dedicati solo agli iscritti a Patreon per il momento è tutto, ciao a presto